Benvenuti sul mio canale, in questo video volevo parlarvi di queste nuovissime bevande per prima cosa volevo farvi vedere questa qua della Fanta al gusto ananas come possiamo notare c'è scritto 100% naturale, 180 calorie all'interno vi leggo subito gli ingredienti, abbiamo acqua cassata, isoglucosio, regolatori di acidità, aromi naturali, amido alimentare modificato, conservanti, sale, olio di noce di cocco, coloranti e questo qua è prodotto da Coca Cola Company devo dire che mi è piaciuto moltissimo sia la lattina come è stata realizzata mi è piaciuto molto il disegno, il colore e soprattutto mi è piaciuto molto perché si sente proprio il sapore dell'ananas a me l'aranciata in sé per sé, qualsiasi tipo, sia Fanta che altri, a me non è che piacciono molto ma questo qua devo dire che mi è piaciuto tantissimo ve la consiglio, i prezzi si aggirano intorno ai 3 euro, tutti e due e c'erano anche altre, diciamo, altre lattine sempre della Fanta con altri frutti all'interno poi abbiamo questa qui, della Dr. Pepper ed è 150 calorie e all'interno vediamo qua gli ingredienti se ci sono scritti qui c'è scritto acqua, caramello, coloranti, acidi, sodio, caffeina qua ce ne sono di meno questo invece, pure mi è piaciuto, però è a marena mi è piaciuto, però, anche se io amo la marena l'ho trovato molto dolce quindi io ho preferito questa qua della Fanta all'ananas sono buone entrambi, entrambi poi costano 3 euro la grandezza, come possiamo vedere, è uguale però devo dire che questa l'ho trovata molto più naturale, più leggera diciamo, d'estate va benissimo questa qua invece è più dolciastra l'ho trovata, quindi anche se dice di avere meno calorie quindi per me vince questa della Fanta fatemi sapere nei commenti se anche voi l'avete già provate oppure se avete provato gli altri altri gusti, questi qua della Fanta fatemi sapere spero che questo video vi sia stato utile lasciate un like iscrivetevi al canale e come sempre noi ci rivediamo in un prossimo video grazie a tutti